Vento pazzesco, oggi a Brighton, sembra di essere a Trieste con la Bora Slashers for Books, avanti tutta, all'inizio marzo c'è la riapertura di Slashers, ne abbiamo già parlato e quindi siamo tutti concentrati a lavorare su quello Un pensiero secondo me interessante, è incredibile come dal mio punto di vista se uno non si candida per entrare in una community come Slashers dove hai dei professionisti che si scambiano opinioni tra di loro, che si incontrano con eventi fisici e poi hai tutti i webinar, gli esperti, gli ospiti, di tutto di più, abbiamo avuto barberi, squalandri veramente una marea di gente superforte e tutti gli strumenti che mettiamo dentro a questa piattaforma se uno non si abbona, secondo me, chiaramente uno che non ha la percezione di cosa vuol dire scegliere qualche cosa che sia veramente utile per lui, anche perché spende, non so, 500 euro all'anno la cosa incredibile però è che uno deve poi sempre considerare che è il mercato a decidere se quella è la giusta strada oppure no per qualcuno e questa è la visione dell'imprenditore o da chi dentro vede la community e dice vabbè ma è ovvio che se trova qua c'è un valore lo sforzo da fare però è quello di far percepire agli altri questo ci innamoriamo magari del nostro bel progetto ma se non siamo in grado di far percepire agli altri quanto vale e allora una cosa secondo me importante è far vedere anche delle storie di successo di gente che è dentro la community, insomma vedo della gente tipo Giuseppe Gatti che adesso esce con un libro, con un noto editore, partito da zero mi ricordo faceva un investitore immobiliare, non aveva la più pallida idea di come muoversi ha iniziato a comunicare online, a far video ed è una macchina da guerra insomma ha preso proprio il mercato suo, si è posizionato al top e tu vedi proprio della gente crescere così come altre persone invece magari non fanno quel percorso lì perché non basta l'informazione ma poi devi eseguire e allora lo sforzo di questo mese è far passare il valore vero che c'è dentro alla community a Slashers e poi la gente valuta se uno gli piace si candida, se non gli piace a me Ripresa per Twitter, vedo una ripresina che non è soltanto il risultato finanziario ma è una piattaforma che in un qualche modo sta cercando di mettersi in sesto cosa può succedere così se vogliamo fare un po' di fanta tecnologia che la vendono, si parla di rumors di gente che può comprare Twitter che è la mia personalissima previsione cioè mi aspetto che da qua ai prossimi mesi Twitter venga venduto finito di rimettersi in sesto e una volta che sono profittevoli a quel punto sono appetibili e vengono comprati fine della vicenda di Twitter e passano in altre mani ipotesi 2 è che Jack Dorsey sia così super convincente convinto lui che invece voglia andare a creare qualcosa di super 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 straordinario o è già straordinario Twitter se ci pensiamo quando è partito sembrava un'idea da pazzi furiosi per cui staremo a vedere però interessante personalmente sto valutando se ritornarci un po' sopra ecco i giornalisti sono tendenzialmente tutti su Twitter almeno qua all'estero non so in Italia sono forse gli unici che sono rimasti sopra e le celebrities i numeri sono piccoli se tu carichi un contenuto sei abituato ad altre piattaforme carico un video su Twitter fa veramente tre visualizzazioni è anche vero che io non ci faccio niente la morale della favola è che tutte queste piattaforme hanno sempre dei cicli a volte magari vanno su poi vanno giù e crollano camorosamente oppure si riprendono e hanno una nuova identità ecco Twitter ho avuto un po' quella sensazione in questi giorni che possa avere un momento virtuoso e rinascere parentesi sui libri ho visto un articolo carinissimo che rispiecchia esattamente il mio pensiero dei libri oggi guardavo stamattina c'è una valanga di libri da leggere e giustamente la mia dolce metà dice sempre tutti questi libri li mettiamo e il fatto è che avere così tanti libri anche se non riesci a leggerli tutti o anche se alcuni li inizi e non riesci a finirli insomma tutte le cose che sappiamo perché quando leggi un libro dipende a volte va in fondo a volte no ti piace o non ti piace sono tutte queste robe qua però è avere intorno la consapevolezza di non sapere ecco questo è il concetto che mi è piaciuto di quell'articolo lì non so se fosse sul New York Times o dove altro si dice ad esempio di Umberto Eco che aveva avete presente questa libreria pazzesca e la domanda era sempre ma li hai letti tutti i libri? no non li aveva letti tutti i libri ma avere questa conoscenza davanti ti dà la proporzione socratica ecco che gli dava una cosa so di non sapere quello per me è l'importante essere sempre a contatto e sapere che qualcosina di nuovo ogni giorno te lo devi portare a casa ed è uno stimolo a imparare sta girando questo articolo sulle youtube star di videogame milionarie che hanno fatto più di 10 milioni di dollari di fatturato nell'ultimo anno c'è anche PewDiePie, l'amico Felix e un po' di altri tizi perché fanno così tanti soldi questi signori? la gente si stupisce io non mi stupisco per niente anzi secondo me guadagnano anche poco perché hanno gli occhi delle persone e l'intenzione delle persone se tu hai creato una community che ti segue ogni giorno di milioni di persone poi consideriamo che più sei sbarbato e più magari i video li rivedi un sacco di volte per cui c'è una community molto molto affezionata rispetto ad alcuni creator a quel punto hai un potere anche economico gigantesco perché esci con le magliettine e esci con, non so, Mark Brownlee che non fa videogame ma è il numero uno su youtube come recensioni tecnologiche è uno che adesso lancia il suo shop di maglietto o altro ma quello farà dei numeri pazzeschi perché la community è fedele e ci crede d'altronde è il bello questo non hai bisogno di questi media un tempo avevi bisogno di essere tu rai uno se ti dava la trasmissione l'intrallazzo o coso oggi invece non è più così tu ti costruisci il tuo media arrivederci e grazie chiaro sei sulle spalle di altre piattaforme youtube, facebook, snap per cui hai da gestire questo tipo di rapporto però meglio questo tipo di rapporto rispetto a un rapporto dove hai il signore del vapore che decide così su, giù, in base ai suoi interessi in base alle sue visioni ecco trial ecco questo è uno degli argomenti uno dei test che stiamo facendo su 4books spendiamoci due parole ha senso fare una prova del tuo prodotto sì o no? c'è una lunga filosofia, una scienza quella delle trial hai miliardi di siti, di specialisti su come si fa la trial migliore per il tuo software le durate, mille cambi eccetera eccetera quello che stiamo facendo noi è in questo momento fare una prova se andate su 4books.it vedete quello che stiamo facendo è un'area di prova dove ti scarichi il tuo abstract di testo e audio e a quel punto quello che facciamo è un test AB per vedere quali sono gli abstract più interessanti ne stiamo testando mi sembra 3 e abbiamo 6 diverse landing per cui se arrivi non vedi la stessa landing page però è tutto basato sul concetto di trial e allora è una prova basata su un abstract non è una trial piena dove dici provo tutto, vedo tutto per non so 7-15-70 giorni ma è in questo momento un test su un abstract ed è incredibile quanti pezzetti siano da mettere insieme perché a prescindere da piattaforma peraltro noi usiamo ClickFunnels in questo momento mentre stiamo sviluppando la nostra piattaforma su cui miglioriamo a breve però ClickFunnels già ti dà la possibilità di fare dei test AB e in più usiamo Google Optimize quindi non Optimize ma gli strumenti legati a Analytics ed è interessante ecco vedere tutti i dati che emergono e cerco poi di tenere i miei giornati su quello che succede se lo provate fatemi sapere trial, trial, trial breve periodo versus lungo periodo devi fare delle scelte a volte nel nostro caso lo stiamo facendo con 4Books sei in grado di ragionare nel lungo periodo nel bene del prodotto oppure ragioni nel breve periodo cerchi di portare a casa il miglior risultato economico ma rischi poi di bruciare un prodotto e allora è un ragionamento questo che c'è spesso e tu vedi quali sono le aziende che hanno una visione di lungo periodo lasciano i soldi sul tavolo di fatto o anche le persone che lasciano i soldi sul tavolo per avere un risultato molto maggiore in 5-10 anni rispetto a quelli invece che portano a casa subito il più possibile e se ne fregano poi di quello che succederà un po' come le aziende ho visto Uber che fa nell'ultimo quarter 2 miliardi di dollari e passa di fatturato con dei debiti giganti però fa 2 miliardi e passa di dollari di fatturato e lì la scommessa è nel lungo periodo creare un'azienda che a quel punto ha preso tutto il mercato e supera qualunque guaio finanziario oppure Twitter appunto anni e anni per arrivare a fare degli utili però una volta che poi ci arrivi sei un colosso ed è difficile veramente tirarti giù che ragionamento fai tu? breve periodo? lungo periodo? o lunghetto periodo? bene insomma questa è una variante